Allora, grazie agli amici della stampa di Messina per questa attenzione che ci state riservando. Ho ritenuto importante fermarci un attimo durante questa campagna elettorale perché in campagna elettorale ascolti parecchio e quindi se c'è qualcosa che non funziona devi necessariamente attenzionarla e ti devi fermare a riflettere e a fare capire che cose che non funzionano. Ponte sullo stretto che è il mio cavallo di battaglia non di questa campagna elettorale ma da quando mi sono insediato al Senato della Repubblica e il cavallo di battaglia del Ministro delle Infrastrutture di Matteo Salvini e si inizia a parlare di ponte da inizio legislatura. Quindi dico che solo un folle potrebbe dire inizio legislatura realizzeremo il ponte per poi arrivare a fine legislatura dove dobbiamo rendere conto del nostro operato e dei cittadini per avere la loro fiducia e quindi solo un folle potrebbe dire facciamo il ponte e poi a fine legislatura il ponte non c'è. Qual è la differenza rispetto al governo Berlusconi, al governo di allora? Il ponte, io soltanto una cosa voglio chiarire e poi vado a dire qui, il ponte non è mai stata una promessa elettorale, questo è importante perché Berlusconi cominciò da zero e poi finì la legislatura e quindi poi arrivò con la sciamura del governo Monti e di volta che vedo sempre la stessa cosa che con 5 minuti di seduta dei consigli o ministri a 0 a 5 anni di lavoro. La differenza è oggi che non partiamo da zero, significa che così come abbiamo detto i lavori inizieranno entro il 2024, poco cambia se iniziano a giugno, luglio o a ottobre, novembre o addirittura a dicembre, per noi non cambia nulla. La legislatura finisce fra tre anni, quindi quando si inizia, quando si parte con i cantieri si dovrà partire bene. Quindi se dobbiamo prendere 30 giorni piuttosto che 120, 120 piuttosto che 30, per rispondere alle osservazioni, la società strutturale Messina dovrà rispondere a quelle osservazioni, attenzione, che sono osservazioni di non criticità, sia quelle 68 del Comitato Tecnico Scientifico, sia le 239 della Via Bass. Ci vuole il tempo giusto per rispondere alle osservazioni e quando tutto sarà chiaro si potrà partire. Ciò significa che noi a fine legislatura, a fine di questa legislatura, avremo già tre anni di cantieri alle spalle. Non mi voglio soffermare sugli effetti, sulla bontà di quello che rappresenta il ponte, sugli effetti positivi che il ponte avrà per tutta l'intera Sicilia, non soltanto per Messina e Vila San Giovanni, perché ne parliamo da un anno e continueremo a parlarne per altri anni. Ma oggi volevo chiarire alcuni aspetti, c'erano alcuni punti da chiarire, perché purtroppo mi sono reso conto che c'è una scarsissima comunicazione e di questo io non me ne posso prendere la responsabilità, io anzi sono un trincea con le pagine dei social a rispondere, a cercare di rispondere a tutti i cittadini che in maniera garbata mi fanno delle domande, a quelle che non lo fanno in maniera garbata li mando a quel paese. Il ponte per noi è una... se oggi non c'è ancora il ponte è soltanto una fusione biologica, il centrodestra l'ha sempre voluto, il centrosinistra non l'ha mai voluto e non lo farà mai. Quali sono i punti da chiarire? Perché ancora c'è gente che mi ferma per la strada e mi chiede ma si farà questo ponte? Se mi fanno... io non capisco perché io devo avere questa consapevolezza, questa certezza che il ponte si fa e ci sono dei cittadini messinesi che hanno legittime preoccupazioni per la durata dei cantieri, per l'infatto dei cantieri, che non sono convinti, che ancora non sanno, che hanno dei dubbi se questo ponte si fa o meno. E allora ci siamo fermati un attimo. I punti quali sono? Esiste un progetto definitivo approvato? Sì, esiste un progetto definitivo ed è stato approvato. È stato approvato quando? Il progetto definitivo è stato approvato il 15 febbraio 2024 dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla stazione appaltante, dall'astretto di Messina, secondo la normativa vigente. Che significa? Che il progetto definitivo approvato il 15 febbraio non ha più bisogno di altra approvazione tecnica. non ha bisogno di altra approvazione tecnica. Sugli aspetti giuridici poi l'Avvocato dirà qualche cosa su questo. Il ponte è legge di Stato. Il ponte è legge di Stato con decreto del 31 marzo 2023, numero 35, approvato dalla Camera dei Deputati il 16 maggio 2023. È approvato dal Senato della Repubblica, e io mi onoro di essere stato il relatore di questo decreto legge, il 24 maggio 2023. Con legge numero 58-23 del 26 maggio 2023, gazzetta ufficiale numero 125 del 30 maggio 2023. Forse sto dicendo cose che magari voi giornalisti sapete, ma i cittadini non le sanno ancora. Osservazioni, non criticità, sono quelle della valutazione di impatto ambientale. È in corso la conferenza dei servizi presso il Mase, il Mase e il Ministero dell'Ambiente, per l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale secondo la normativa vigente. Tempo di legge 90 giorni. Entro 90 giorni si dovrà rispondere a queste osservazioni che non sono criticità. È stata richiesta l'interruzione di 120 giorni da parte della stretta di Messina per rispondere esaurientemente alle 239 osservazioni, che potrebbero sembrare tante, ma per l'opera ingegneristica più importante del secolo potrebbero essere anche poche, visto che un'opera qualsiasi un'opera qualsiasi, mediamente ne ha 50, 60. Al MIT, al Ministero dei Trasporti, sono attribuite le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnico-operativa sulla società in auso stretto di Messina, S.P.A. In ordine all'attività oggetto di concessione e quindi sostenere che il progetto è all'interno di una concessione statale è assolutamente corretto. Ci sono alcuni soggetti in particolare, tra cui Sumahoro e Bonelli, che stanno sostenendo che il progetto non tiene conto delle faglie, che non tiene conto dei terremoti e della intensità del vento. Anche un ingegnere in pensione che si chiama Ricitano, che continua a dire e a fare comunicazione stampa, visto che a pensione forse non ha nulla da perdere, ma io credo che non sia corretto nei confronti dei cittadini, continua a sostenere che non sono state fatte le prove sismiche e pertanto l'astretto di Messina avrebbe emesso un provvedimento falso. Questo è veramente qualcosa che grida vendetta. Condotte, che poi lascerò alla Bocca con Silvestro, che è l'oggetto oggi di questa nostra conferenza stampa, lascerò la parola a lui. Io qua mi fermo, anzi no, un'altra cosa volevo dire. Ho letto in questi giorni che ha suscitato a scalpore l'emendamento presentato dalla Lega, dal collega Iezzi al DDL Sicurezza, che andrà in aula il 17 giugno. Il titolo del giornale, adesso non lo ricordo, comunque, cosa dice questo emendamento? Dice che se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Io penso che questo sia un emendamento di buon senso, perché qua si sta creando quel clima che abbiamo visto purtroppo in passato, che può magari sfuggire di mano, come è stato per la TAB. E quindi è una norma questa, a volte a intercettare comportamenti violenti posti in essere nell'ambito di manifestazioni di protesta, le manifestazioni di protesta sono sempre legittime, ma non devono essere violente, per l'esecuzione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse strategico, quali le condotte di violenza, resistenza o minaccia nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, a presidio del corretto svolgimento dei lavori o quelle consistenti nell'impedire agli operai impiegati nei cantieri di svolgere la loro attività lavorativa. Ci sono degli agenti che controllano i cantieri e degli operai che stanno svolgendo il loro lavoro, vanno protetti dalla legge. Grazie.